Una settimana per raccontare l'inverno autentico, si racconta così l'Abruzzo con il suo Open Day Winter, l'evento che punta a catturare l'attenzione dei turisti, offrendo per sette giorni 200 eventi in tutti i suoi angoli più caratteristici e sconosciuti. Un cartellone di eventi che spazia dallo sport alla tradizione, alla rievocazione, all'enogastronomia, il tutto made in Abruzzo. Ognuno sceglierà a seconda delle proprie preferenze, delle proprie vocazioni e soprattutto del gusto personale. Ma certamente lo spaccato è amplissimo. Penso che c'è occasione per definire una offerta di grandissimo livello. Poi quelle vincenti noi le cominciamo già a tastare e a testare perché in alcuni casi abbiamo raggiunto il sold out. È possibile iscriversi agli eventi in programma grazie al sito dedicato all'Open Day Abruzzo, anche se già si registrano tre eventi overbooking. Noi abbiamo onestamente identificato presenze per questo Open Day Winter in un'ipotesi, chiamiamola così, pauperistica, 10.000 presenze. Ma contiamo di averne molte di più anche perché in alcuni casi le prenotazioni sono esaurite. Posso anche citare due esempi come il Bike Life, questa operazione che ha già raggiunto il top con grandi presenze nel mondo del ciclismo, e la Transiberiana di Maya dove praticamente il sold out è certo. Grazie. 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 Grazie.